eccoci qua da solo ma chi lo sa nooo e oggi presentiamo il nostro gatto che è la peste ah non inquinciare e due un nuovo giocco come? ah si abbiamo tagliati i capelli colorati e questo giovanino maledetto si chiama Axel e adesso muoviamo ciao e ora è questo io non ce l'ho creata così quindi già sto intanto noi salteremo direttamente al gioco allora allora dovremmo fare delle missioni dovremmo sappiamo già che ci sono degli scheletri che si aggirano sola vieni 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 ok vieni 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 che accetti la missione vieni 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no way, that's me. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La scuola è la scuola. Sì, quello che abbiamo già fatto è fare l'esplosivo. Eccoli, arriva o no? Ok, l'ho saluto qui all'embrato. Ok, arriva! ... ... Oh no, come stai? non c'è la mia Riali per me non c'è un giallo Riali per me non c'è un giallo è giusto Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.